Dobbiamo scrivere un programma che implementi una semplice calcolatrice in grado di compiere le quattro operazioni. Il programma deve presentare un menu da cui l'utente indichi con un numero tra 1 e 4 l'operazione da svolgere. In seguito il programma acquisirà da tastiera i due operandi, quindi i due numeri, e stamperà il risultato dell'operazione. Occorre controllare il caso in cui, scegliendo di effettuare una divisione, l'utente inserisce come divisore in 0, perché sapete tutti che non si può dividere per 0. Quindi id, userò l'abbreviazione id per indicare l'identificatore, input oppure output, variabile temporanea tipo. Bene. Vogliamo fare come ha fatto il vostro compagno numero 1 e numero 2? Qui numero 1, numero 2, sono le variabili che contengono i numeri che vengono inseriti in input. E poi come hai chiamato? Va bene. Allora, decidiamo anche, stabiliamo, magari aggiungo una colonna descrizione. a che cosa serve quando ci sono delle variabili un po' particolari, tipo questa, e se qualcuno da fuori apprende questo programma, magari non capisce bene. Allora possiamo dire che la variabile operazione vale 1, cioè... 2 per la moltiplicazione, 3 per la sottrazione, questo serve soprattutto a voi e anche a qualcun altro che magari prende in mano il vostro programma. 4 per la divisione, e naturalmente la divisione è una divisione intera, cioè siamo nell'ambito dei numeri interi e la divisione è intera. Poi numero 1 e numero 2 sono naturalmente variabili di input. No? Non le conosciamo, qualcuno ce le deve indicare. L'operazione che cos'è? Una variabile di input. Non può essere una variabile di output perché l'utente deve scegliere qual è l'operazione che vuole fare. Quindi anche questa è una variabile di input. E l'output dove lo mettiamo? Allora andiamo a mettere nella variabile che chiamerò risultato. Ok? Il risultato contiene il risultato dell'operazione e questa è una variabile di output. Il tipo, ce l'ha detto il testo, il testo dell'esercizio ci dice che il tipo delle variabili è int. L'operazione è un numero intero da 1 a 4. Quindi vado, ma non c'è bisogno che lo scrivo, è già scritto nella descrizione. Il risultato sarà, però siccome qua chiede intero mettiamo intero. Quindi alla fine il risultato sarà intero. Se qua c'è scritto tra numeri interi, queste sono le specifiche. Ed è una cosa che dovete imparare. Se il cliente vi chiede di fare il tavolo rosa, poi glielo fate rosa. Se qua ci chiedono una calcolatrice che fa operazione tra interi, glielo facciamo tre interi. Perché potrebbe essere usato per i bambini. Quindi a questo punto possiamo disegnare il diagramma di flusso. Leggiamo il testo. Cosa c'è scritto nel testo? C'è scritto che il programma presenta un semplice menu da cui l'utente indica con un numero tra 1 e 4 l'operazione da svolgere. Quindi la prima cosa che fa il programma è presentare il menu con le possibili opzioni. Bene, questo è ciò che appare all'utente come prima scelta. Scegli uno di questi numeri. Poi andiamo a leggere quello che l'utente inserisce. Andiamo a fare l'input dentro alla variabile operazione. E adesso sì che... Adesso sì che... Che si fa adesso? Output inserisci numero 1. Inserisci... Ah mamma mia... Inserisci il primo numero. E poi... Input... Input di numero 1. Inserisci il secondo numero. E poi... Input di numero 2. Ok? Cosa dovrei fare? Pensateci un po'. Ho i due numeri. Ho l'operando. E cosa devo fare? Continuiamo l'esercizio che si è interrotto bruscamente durante la lezione. Dopo... Stiamo realizzando una calcolatrice. Quindi dopo aver acquisito in input l'operazione da effettuare e i due numeri. Andiamo a vedere qual è l'operazione scelta dall'utente. E se l'utente inserisce 1 vuol dire che vuole addizionare i due numeri. Quindi se l'operazione è uguale 1, uso un blocco condizionale, quindi un rombo. Allora se questa condizione è vera, userò v per indicare vera. Allora bisogna andare a calcolare la somma. Per cui abbiamo definito una variabile che si chiama risultato. In questa variabile assegniamo la somma. Risultato uguale numero 1 più numero 2. Cosa succede se invece l'operazione non è 1? Andiamo a vedere se l'operazione scelta dall'utente è 2, cioè la moltiplicazione. Quindi dobbiamo utilizzare un altro blocco condizionale. ci chiediamo se l'operazione è uguale a 2. Anche qui se la condizione è vera andiamo ad effettuare il calcolo del prodotto. Dunque, poi continuiamo. Se l'operazione inserita dall'utente è 3, significa che dobbiamo andare a fare una sottrazione. E calcolare quindi la differenza tra i due numeri. Quindi, di nuovo, un blocco condizionale. Ci chiediamo se l'operazione è uguale a 3. Se è vero, dobbiamo calcolare la differenza. Supponiamo che l'utente inserisca invece, come operazione, 4. Quindi significa che vuole calcolare la divisione dei due numeri, il quoziente dei due numeri. Se l'utente inserisce 4 come operazione, quindi la divisione, dobbiamo andare a controllare se i numeri inseriti sono corretti. Ossia, il divisore, cioè il numero 2, deve essere diverso da 0. Quindi, dobbiamo aggiungere, prima di effettuare l'operazione, prima di fare il calcolo, dobbiamo aggiungere un'altra condizione. E ci chiediamo se il numero 2 è diverso da 0. Se è diverso da 0, possiamo fare il calcolo. Cioè calcolare il quoziente della divisione intera. E al risultato, assegniamo numero 1 diviso numero 2. Se questa condizione è falsa, occorre andare a visualizzare all'utente un messaggio di errore. Avevamo visto in classe che per poter distinguere, quando arriviamo alla fine del nostro algoritmo, la situazione di errore da invece la situazione dove si può produrre un risultato, potrebbe essere utile introdurre una variabile booleana. Quindi adesso torno all'inizio del diagramma di flusso e aggiungo questa variabile booleana che inizialmente faccio valere false. Chiamo la variabile booleana errore. Quindi l'errore inizialmente non c'è, è falso. Quindi continuiamo e andiamo a vedere cosa succede se il numero 2 è uguale a 0. Quindi nel caso in cui la condizione sia falsa, dobbiamo comunicare all'utente che si è verificato un errore. Vedremo poi con l'introduzione delle iterazioni come recuperare questo errore. Quindi output, errore, non puoi dividere per 0. Inoltre non è sufficiente questo perché dobbiamo andare ad assegnare alla variabile booleana errore il valore true. Ora attenzione perché questa condizione è stata completamente esaminata, quindi si può chiudere questo blocco condizionale. E si chiude. In che modo? Allora prendiamo come riferimento sempre questo vertice, questo qui, e tracciamo delle linee a partire dal ramo false fino ad arrivare al ramo true, al ramo vero, che chiudono il blocco. Dopodiché facciamo uscire una freccia in corrispondenza di questo vertice qua. Più o meno, insomma. Non è necessario essere così precisi, però già che abbiamo uno strumento come questo che ci facilita il compito, è meglio essere anche ordinati e simmetrici per poter leggere meglio il diagramma. Ora andiamo a ritroso, torniamo su, vediamo che questo blocco con operazione uguale a 4 non è chiuso. Quindi vediamo se nel caso di risultato falso, cioè nel caso in cui l'operazione sia diversa da 4, vediamo se dobbiamo fare qualche cosa. In effetti, se l'utente si sbaglia e non inserisce un numero corrispondente a un'operazione, e quindi inserisce, che ne so, 5, che non corrisponde a nessuna operazione, bisogna segnalarlo con un errore. Quindi, anche in questo caso, dobbiamo produrre in output un messaggio di errore. Quindi, se l'operazione è diversa da 4, quindi se la condizione è falsa, bisogna produrre in output che l'operazione non esiste, e poi cambiare il valore della variabile errore a true. Osserviamo quindi che anche questo blocco condizionale è terminato, nel senso che sono state prese in esame tutte le varie possibilità, e allora possiamo chiuderlo. Dobbiamo chiudere il ramo falso sul ramo vero, per cui tolgo questa freccia, la sostituisco con una linea, che arriva qua, e poi, anche da quest'altra parte, traccio una linea, chiudo queste due linee, e di nuovo esco in corrispondenza di questo vertice, quindi tracciamo solo una linea, non più una freccia. Non perché prima si dovesse tracciare una freccia, ho tracciato una freccia, ma in realtà c'è una linea. Possiamo adesso andare a vedere che cosa è rimasto sopra, quindi torniamo indietro. Allora, se è chiuso, è terminato il ramo falso dell'operazione 3 di questo blocco. Il ramo vero è a posto, nel senso che non dobbiamo fare nient'altro, quindi adesso dobbiamo andare a chiudere questo blocco condizionale. Ramo vero e ramo falso si devono congiungere al fondo, e adesso andiamo a farlo. Di nuovo, in corrispondenza di questo vertice, traccio una linea che esce. Di nuovo andiamo a ritroso, siamo a questo blocco dove c'è operazione uguale a 2, di nuovo non devo aggiungere nient'altro, se non chiudere... rimane ancora il blocco 1, anche su questo facciamo lo stesso tipo di azione, andiamo a tracciare una linea che schiude ramo vero e ramo falso, e usciamo qua, più o meno. Tornando sempre indietro, non ci sono più condizioni, le abbiamo chiuse tutte. E' di fondamentale importanza che tutti i blocchi condizionali siano chiusi. Ora, prima di produrre il risultato, bisogna verificare se c'è stato un errore o no. Perché se c'è stato un errore, l'utente ha già ricevuto un messaggio di errore in output, e quindi non c'è bisogno di fare nient'altro. Se invece non si è verificato alcun errore, allora dobbiamo produrre in output il risultato. Quindi è necessario ancora utilizzare un blocco condizionale. Se la variabile errore è uguale a false, significa che non si sono verificati errori, possiamo produrre in output il risultato. E' altrimenti non dobbiamo fare nulla. Quindi se è vero, facciamo qualcosa. Se è falso, facciamo niente. Quindi semplicemente chiudiamo il blocco, etichettiamo l'arco con falso, e usciamo, e finalmente possiamo chiudere il diagramma con AND. Qui lo vediamo tutto insieme, anche se molto piccolo. Facciamo un riepilogo. Allora, l'utente, e abbiamo questa variabile booleana errore, che vale inizialmente false. L'utente visualizza sul monitor che può effettuare queste quattro operazioni inserendo il numero corrispondente. inserisce l'operazione e poi gli viene chiesto di inserire anche i due numeri. Poi se l'operazione è uguale a 1, quindi addizione, i due numeri vengono addizionati e il loro risultato, cioè la somma, viene assegnato alla variabile risultato e poi si arriva a questo blocco finale dove se l'errore è uguale a false, e in effetti è uguale a false, viene prodotto in output il risultato. Se invece l'operazione non è uguale a 1, si fa vedere se è uguale a 2. Se è uguale a 2, di nuovo si va a calcolare il prodotto, di nuovo si arriva al blocco o su blocco finale e viene prodotto in output il prodotto in quanto errore vale ancora false. Se invece questa condizione è falsa, si va a vedere se l'operazione è la 3, in tal caso viene calcolata la differenza e di nuovo viene prodotto in output. Se invece l'operazione non è 3, si fa vedere se è uguale all'operazione 4. Nel caso sia vero, bisogna attestare che il numero 2, cioè il divisore, sia diverso da 0. Se è diverso da 0, allora si va a effettuare l'operazione, altrimenti in output viene prodotto il messaggio errore, non puoi dividere per 0, e viene cambiato il valore della variabile errore. Quindi a questo punto si esce di nuovo, ma siccome errore non è uguale a false, ma è diventato uguale a true, non viene fatto niente. Non viene prodotto in output più niente. Se invece il numero è... No, scusate, torno qua. Se invece l'operazione non è 4, e allora vuol dire che l'utente ha sbagliato qualcosa, per cui in output viene prodotto il messaggio e l'operazione non esiste, la variabile errore viene cambiata, il suo valore viene cambiato a true, in modo tale che arrivando qui non viene prodotto in output più niente perché la condizione errore uguale a false è falsa. Ci tengo anche a puntualizzare una cosa. Guardiamo questo ultimo blocco. La condizione all'interno del rombo non è messa a caso. Se avessi scritto dentro al rombo errore uguale uguale a true, avrei avuto sul ramo vero nulla. perché se l'errore è vero, cioè se sei già verificato un errore, non devi fare nulla perché l'utente ha già ricevuto in output il messaggio. E se invece l'errore è false, quindi la condizione errore uguale a true è falsa, avrei dovuto mettere su questo ramo l'output del risultato. Questa situazione è errata perché questi blocchi condizionali devono sempre avere almeno un'istruzione sul ramo vero. Mentre sul ramo falso possono anche non avere istruzioni, ma non vale il viceversa. Cioè non è possibile avere un blocco condizionale dove sul ramo falso ci sono delle istruzioni e sul ramo vero non ce n'è nemmeno una.